Il Consiglio Comunale di Pordenone, nella seduta di lunedì 9 luglio, ha approvato alcune modifiche al regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza, che è stato così adeguato alle attuali norme di legge. L'assessore comunale alla sicurezza, Flavio Moro. Nell'ultimo Consiglio Comunale abbiamo approvato il nuovo regolamento della videosorveglianza. Ci siamo impegnati anche come amministrazione a proseguire nel rinnovo, in questa fase, dell'apparicatura di videosorveglianza, anche grazie a un contributo che dovrebbe arrivare dalla Regione, finalizzato proprio al rinnovamento dei sistemi di videosorveglianza. Questo è un nostro impegno. In questi prossimi mesi, nei prossimi anni, procederemo a questa attività in modo tale da avere un sistema di videosorveglianza capillare, cosa che oggi è già sufficientemente capillare, e anche efficiente. Il sistema di videosorveglianza è un sistema che il Comune di Pordenone mette a disposizione anche delle forze dell'ordine in generale e, tra l'altro, proseguirà l'attivazione e il collegamento anche per la protezione civile. In questa fase, riteniamo più opportuno, come abbiamo detto anche durante il Consiglio Comunale, procedere al rinnovamento degli impianti, più che all'ampiamento delle zone coperte. Una volta che avremo efficientato l'attuale impianto, non escludiamo anche di procedere ad ulteriori ampliamenti del sistema.